Chi sono gli stranieri censiti in Italia nel 2022? Sono più di 5 milioni gli stranieri residenti censiti in Italia alla fine del 2022. Sono prevalentemente rumeni un milione di individui seguiti dall'Albania e dal Marocco come collettività, hanno un'età media di 10 anni più giovane rispetto al totale della popolazione residente e nella distribuzione tra i sessi sono in perfetto equilibrio tra maschi e femmine. E gli italiani all'estero? Sono quasi 6 milioni gli italiani residenti all'estero. Sono leggermente più numerosi gli uomini, 107 ogni 100 donne, ma la distribuzione per sesso mostra una tendenza non omogenea e sensibilmente variabile tra le diverse aree geografiche. L'età mediana è pari a 43 anni, con valori che vanno dai 33 anni dei residenti in Austria ai 58 anni dei residenti in Canada. Da dove provengono gli stranieri censiti in Italia? Gli stranieri censiti in Italia provengono da più di 190 paesi esteri diversi, tuttavia possiamo dire che la collettività più rappresentata è quella rumena, con oltre un milione di individui, seguita dagli albanesi e dai marocchini. E gli italiani all'estero? Tra gli italiani residenti all'estero solo uno su tre è nato in Italia. È interessante notare come tra gli oltre 4 milioni nati all'estero, più di 600 mila vivono in un paese diverso da quello di nascita. Dove scelgono di vivere queste persone? Gli stranieri scelgono di vivere prevalentemente nel nord Italia, dove si sono stabilizzati più di 3 milioni di persone e preferiscono come insediamento territoriale i comuni con almeno 100.000 abitanti. Mentre gli italiani dove vanno? Più della metà vive in Europa e un altro 40% in America. I principali paesi per numero di residenti sono l'Argentina con più di 900.000 italiani, la Germania con oltre 800.000 e la Svizzera con circa 650.000 italiani. Ma numerose sono le presenze anche in Brasile, Francia, Regno Unito, Belgio e Spagna. Quali sono le differenze tra le nuove e le vecchie migrazioni? Le differenze sono dovute sostanzialmente al fatto che negli anni più recenti le migrazioni sono caratterizzate soprattutto dai ricongiungimenti familiari, mentre in passato era una immigrazione che si caratterizzava prevalentemente per l'arrivo di stranieri maschi. Invece attraverso i ricongiungimenti familiari adesso è possibile stabilire una parità di genere, questo significa che in qualche modo l'Italia sta entrando in una fase, è già entrata in realtà, in una fase di matura della presenza straniera, al pari di quanto accade nei maggiori paesi europei di immigrazione, quali Germania, Francia e Regno Unito. E invece per le emigrazioni? Le emigrazioni più antiche erano dirette oltreoceano, in America, in particolare in Argentina, Brasile e Stati Uniti. Oggi i giovani prediligono più i paesi europei, come Regno Unito, Francia, Germania e Svizzera. La presenza italiana all'estero oggi rappresenta una sintesi dell'antica e della recente emigrazione dei cittadini italiani. Mostra anche la volontà dei discendenti della prima emigrazione di mantenere o riacquisire la cittadinanza italiana, a volte per emigrare più agevolmente in un paese europeo grazie al passaporto italiano. Per esempio, i nati nei paesi delle ex colonie britanniche o di lingua inglese, una volta acquisita la cittadinanza italiana, si recano nel Regno Unito. Grazie a tutti.